milano per me è la quintessenza della città cosmopolita un punto di riferimento quando si parla di moda di design una città che ancora un potenziale enorme e che ha saputo farsi trovare pronta ad appuntamenti importanti e la massima celebrazione del made in italy di quella tradizione e tutta italiana del saper fare bene le cose io anche se sono toscano l'eleganza senza tempo di milano mi sento a casa